Un meraviglioso convegno internazionale dove ci sono gli scienziati più importanti del mondo e siamo in un momento di grandi novità, si è scoperto che ci sono più geni di PKD e quindi è tutto un divenire, sarà tutto in crescita e speriamo che ci siano novità veramente convincenti per poter trovare una soluzione definitiva a questo grosso problema. I pazienti hanno molte più possibilità di prima, nel senso che è stato dimostrato che la nuova terapia con il Tolvaptan dà buoni risultati, ho parlato prima con un genitore di un ragazzo che lo sta prendendo che aveva cisti che erano in continua crescita, da tre anni si sono bloccate e sopporta Tolvaptan in maniera benissimo, in maniera meravigliosa, non ha mai avuto problemi e conduce una vita assolutamente normale. I pazienti che sono venuti oggi sono veramente tanti, arrivano da tutte le parti d'Italia e tutti insieme faremo qualcosa, tutti insieme si può.